ciao a tutti e bentornati sulla nuova sfida il torneo degli iscritti oggi si sfidano grattino di marco tina perosce o perosce non so come si dice e maria vaccaro sono tutti numeri bassi 2 4 e 5 partiamo col primo grattino di marco vediamo un po che cosa ci nasconde questo bel grattino i numeri vincenti 35 24 20 bei numeri finora 11 e il 21 il jolly e 14 posso anche trovare i simboli e ricordiamocelo 41 non c'è 49 non c'è 22 ci manca 25 natale non c'è 13 non c'è bonus era 14 48 non c'è 47 non c'è e 32 non c'è 28 ci manca 31 no 55 della cinquantina proprio non ci sono 38 c'è il 35 15 non c'è c'era sempre il 14 lì 30 non c'è 42 e 24 girato 18 non c'è ultimi 4 numeri 43 ci manca 27 ci manca 26 non c'è e l'ultimo numero 46 peccato grattino di marco è perdente quindi possiamo passare all'altro mega che per tina perosce spero di pronunciare giusto il nome i numeri vincenti sono 23 29 56 15 49 e jolly 13 di solito il 13 porta bene l'altro 14 l'altro biglietto 19 non c'è primo numero 20 non c'è arriviamo da quella bella vincita di dell'altro video quindi speriamo di continuare così 54 non c'è 25 natale non c'è ormai è passato quindi non c'è 23 no 22 c'è il 23 46 non c'è 17 non ce l'abbiamo 32 c'è il 23 girato 33 ah proprio la 33 non ce n'è 36 niente quindi l'ultimo che controlliamo 42 non c'è 34 non c'è 55 abbiamo 56 ci prende in giro 39 non c'è 27 manco e il 50 non c'è ultimi 4 numeri per tina perosce 48 a yen 38 non c'è perché la trentina non c'è il 40 non c'è ultimo 29 all'ultimo in estremis vediamo quindi tina perosce quanto vince 10 euro siamo davanti a un'altra vincita a 10 euro attenzione e quindi è un altro spareggio poi passiamo all'ultimo che per maria vaccaru l'ultimo mega numeri vincenti o 25 qua natale c'è 34 13 20 51 e il jolly 22 un giorno del mio compleanno 37 non c'è 24 non c'è 25 26 giusto noi abbiamo 25 36 non c'è 53 non c'è 44 non c'è 38 neanche 46 neanche perché la quarantina proprio non c'è 32 abbiamo 34 40 abbiamo il 20 27 non c'è 31 c'è il 13 girato 42 non c'è perché la quarantina non c'è 45 niente 50 niente 55 non c'è il 39 ah ci manca il 12 non c'è ultimi due numeri il 33 e c'è il 34 e il 21 che non c'è non c'è non c'è non c'è niente anche maria vaccaru purtroppo 0 euro o euri come preferite quindi tira pro c'è 10 euro quindi si andrà a scontrare con Angela curti francesca manfredi gabrile capitani alin di mello paola paola lucia cicciotti e adi arcadio i giorni stanno stringendo eh sì l'anno sta finendo e quindi e ti manca lei annuncio che nella prossima sfida con a parte che allora questa è proprio incredibile solo donne hanno vinto magari i maschietti erano pochi però hanno vinto solo donne aggiungeremo anche eh quindi recapituliamo Cristina Cio Balsamo va a sfidarsi eh al turno successivo con Adi Arcadio Lucia Cicciotti Paola Paola Lindy Mello Gabriele Capitani e Francesca Manfredi e Angela Curti mentre Anna Maria e Eugenia Semeraro sono già in finale e quindi probabilmente si allungherà al massimo massimo fino alla Befana quindi potremmo fare anche una bella finale live magari no per la Befana e niente quindi continuate a condividere i video iscrivetevi lasciate un bel mi piace condiveteli con i vostri amici ciao a tutti e un bacio a tutte grazie a tutti